Sì, è pronto a cominciare? Spero che sia divertente e comunicare fantastico. Lei è stato vera trissima di una falsaggente O.P.? Oh, era proprio qua a servire il caffè a cittadini interciari di come lei. Io ero da mia cognata. Me l'ho fatto qualche drink, di troppo. Ogni l'altro mi venne l'improvvisa ispirazione di passare a lasciare un po' di regali di Natale dei ragazzi. Nome e indirizzo, eh? Non conosco gli indirizzo esatto, ma so come andarci. Sono Maria e Paco Rodriguez. Ah, dovrebbero essere sull'alimento. È la sorella maggiore di cento. No, non conosco gli indirizzo. È la sorella maggiore di innanzitzo. Grazie a tutti. 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 a tutti.